Allora per iniziare con il video di oggi voglio dirvi che sul sito i pampling che trovate linkato in descrizione qui sotto c'è il 3x30 ovvero 3 magliette a 30 euro vi metto in sua pressione alcune di quelle più carine in catalogo al momento però date un'occhiata al link in descrizione così vedete quali sono tutti i prodotti del catalogo in particolare le magliette così se ne trovate altre che vi piacciono potete acquistarle e come sempre vi ricordo che se al vostro acquisto aggiungete un paio di calze a vostra scelta dal catalogo e usate il codice VILASZLO in fase di acquisto le calze non le pagate quindi se vi interessa sapete cosa fare ora però vanno a recensione e iniziamo subito con il video di oggi sigla Allora devo recuperare la recensione delle prime due puntate di una serie che sono uscite settimana scorsa domani uscirà la terza parleremo anche di quella ovviamente anche perché adesso che non devo più seguire le puntate di Enel del Potere perché non ne parlerò più né sul canale né su Instagram sono anche un po' più libero perché comunque il problema è che questa serie esce in contemporanea con gli ultimi episodi della seconda stagione di Enel del Potere però siccome non ne parlo più direi che adesso mi posso dedicare a questa e in generale nell'ultima settimana e mezzo ho avuto talmente tante cose da fare che mi sono perso per strada dei pezzi quindi sto recuperando ciò che va recuperato sto anche finendo di guardare Monsters la storia di Eric e Lyle Menendez che è la serie antologica di cui fa parte anche Dahmer quindi qui si parla di un altro caso di Cronaca Nera che secondo me mi darà parecchio da dire perché alcune cose mi stanno piacendo altre molto meno ma ne parleremo a tempo d'evito oggi voglio parlare dei primi due episodi di Agatha All Along la serie dell'MCU che trovate su Disney Plus su Agatha Arkness personaggio che abbiamo conosciuto in WandaVision e che non è che io attendessi particolarmente perché questo è un residuo della gestione di Bob Chapek CEO che era subentrato a quello precedente ovvero Bob Iger il quale aveva scelto Bob Chapek scientemente e poi è stato allontanato per far tornare per un paio d'anni Bob Iger per rimediare le cazzate fatte proprio da Chapek il quale sotto la costante pressione degli azionisti uno in particolare che volevano che lui puntasse su Disney Plus sulla piattaforma di streaming proprietaria di Disney aveva diciamo chiesto per non dire ordinato a Kevin Feige e Victoria Alonso di tirare fuori quante più serie dell'MCU possibili per rimpolpare il catalogo e il risultato è che sono uscite un sacco di serie senza senso la maggior parte delle quali erano terribili e quindi avevano questa serie ormai da portare sulla piattaforma e hanno dovuto farlo per cui non voglio essere troppo incazzato con quello che ho visto perché capisco che è un prodotto nato male che non aveva senso di esistere tra l'altro prima si doveva chiamare House of Darkness poi si doveva chiamare Coven of Chaos e poi alla fine Agatha o Le Long perché secondo me non erano convinti dei titoli che avevano scelto l'hanno detto facciamo che era preparato fino all'inizio e poi viene il titolo Agatha o Le Long hanno fatto quel teaser con i vari titoli che scomparivano e poi rimaneva solo Agatha o Le Long allora io mi sono approcciato alla serie sapendo che l'interesse da parte mia non era molto alto però non ero neanche prevenuto ho detto ma sì dai vediamo com'è magari è carina la serie è collegata soprattutto a WandaVision ma anche a Doctor Strange nel multiverso della follia perché si parla anche di quello che è accaduto a Wanda e che succedeva in quel film ma se non avete visto Doctor Strange nel multiverso della follia quantomeno sarebbe meglio approcciarsi alla serie avendo già visto WandaVision che per me rimane l'unica serie veramente tanto bella ce ne sono altre carine ma quella era proprio bella pur con i suoi difetti a puntata finale ad esempio mandava molte cose in vacca ma comunque non era sufficientemente brutta da farmi dire che serie di merda no era una bella serie secondo me quindi diciamo che nei primi 20 minuti del primo episodio hanno continuato con il giochetto della serie televisiva che ti intrappola quindi vediamo Agatha interpretata dalla bravissima Catherine Han che è la cosa migliore di questi due episodi lei la sua interpretazione è un po' sopra le righe ma funziona che è una detective che non ha memoria del fatto di essere una strega e che deve risolvere un mistero c'è questo cadavere che è palesemente quello di Wanda che lei deve capire come mai si trova lì questa è una cosa che posso dire perché tanto è nel trailer poi farò spoiler e i primi 20 minuti sono fantastici perché sembra True Detective anche la sigla è proprio ispirata a quella della prima stagione di True Detective e io ho pensato cazzo sono dispiaciuto perché tanto avendo visto i trailer so cosa mi posso aspettare a livello di tono dopo e io non volevo che questa parte finisse perché ho detto ma come me la consigli col resto quando poi effettivamente finisce quel momento che è piuttosto lungo e che arriva tipo fino a metà episodio il mio pensiero è stato cazzo sapevo che sarebbe andata così perché poi si parla di streghe e francamente io ho fatto fatica a ricondurre tutto ad un prodotto Marvel nel senso so che anche nei fumetti le streghe sono presenti Wanda la stessa Agatha ce ne sono diverse però diciamo che sono personaggi tra virgolette minori e sono sempre inseriti nel contesto supereroistico qui non c'è il contesto supereroistico perché Wanda non c'è c'è solo Agatha e francamente sembra Ocus Pocus ma dei poveri senza contare che a un certo punto ci sono delle cose che mi hanno veramente fatto girare le palle perché si sono inventati delle regole che ti fanno pensare ho capito ma questo come me lo concili con quello che è accaduto in WandaVision cioè ad esempio la presenza delle streghe adesso guardando il primo episodio veniamo a sapere che le streghe sono praticamente ovunque e quando Wanda ha preso il possesso di Westview dove cazzo erano queste streghe visto che ci dicono che ce n'è una ogni tipo 3 miglia dove cazzo erano quanto è stretta Westview perché in quella zona non ce ne fossero altre c'era solo Agatha e Wanda basta però quando arriva Agatha Le Long inventiamoci cose nuove che non collimano con quello che si è visto senza contare che si parla di questa mitica strada delle streghe che la maggior parte delle persone streghe comprese considerano un mito e io dico come si accederà a questa strada delle streghe per considerarlo un mito e ripeto Agatha dice di esserci stata ma altre streghe dicono no ma è un mito no 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 vorrà dire che per accedervi sarà bisogna fare qualcosa di difficile tipo che so vi si accede solo nel settimo giorno del settimo mese del settimo anno da quando è stato aperto il portale l'ultima volta e deve esserci per forza la luna piena poi devi prendere con te un unicorno fatato che si trova solo in uno specifico luogo in Bhutan ok dici è anche difficile accedere quando poi si scopre come si fa ad accedere alla strada delle streghe io ho pensato ma come fa a essere un mito cioè nessuno non ci ha mai provato tra l'altro una delle persone che vogliono aprire il portale è la figlia di un personaggio che ha una grande importanza per quanto riguarda il mito della strada delle streghe non ci ha mai provato nella sua vita cioè io quando guardavo queste cose ho detto cioè io capisco la sospensione di incredulità certo però non ha senso cioè è completamente insensata questa cosa senza contare che secondo me soprattutto il secondo episodio è strutturato in maniera piuttosto noiosa cioè abbiamo bisogno di toz streghe reclutiamo vanno da una vanno dall'altra vanno da questa vanno da quella non ho trovato neanche divertente la dinamica tra Agatha e quello che dovrebbe essere Wiccan che è questo personaggio che peraltro entra nella vita di Agatha ma poi cioè ha un obiettivo a caso lei non si pone domande boh e poi c'è un'altra cosa che proprio non mi è piaciuta ad esempio questa strega interpretata da Aubrey Plaza che ha un rapporto conflittuale con Agatha che ancora non c'è stato spiegato anche se è una mezza idea ce l'ho però il punto è che quello che lei fa non ha senso ma dall'inizio del primo episodio cioè lei fa una serie di cose che anche sapendo che dovrebbero spiegarmi non hanno comunque un senso logico non farò questa cosa ma farò quest'altra cosa e allora per perché ma che senso ha ma per quale motivo cioè come al solito ci troviamo di fronte a una serie dell'MCU che sembra scritta senza showrunner perché a un certo punto quando hanno dovuto riscrivere da capo Daredevil Born Again hanno ammesso in un'intervista che loro non avevano gli showrunner per le serie cioè la figura dello showrunner non esisteva perché di solito sono prodotti che vanno al cinema non hanno esperienza con le serie e quindi per Daredevil Born Again hanno preso uno showrunner che dovrebbe essere la base quando fai una serie ma si notava perché sembrava che alcune puntate fossero state scritte da persone che non sapevano come sarebbero state le successive si contraddicevano ma questo in una valanga di serie Marvel cito che so The Falcon and Winter Soldier vi cito Moon Moon Knight che per me è una delle più brutte Eko non mi aveva fatto impazzire ma ad esempio Eko non mi aveva fatto schifo era anche carina ma sul finale si notava che probabilmente chi aveva scritto quella puntata o non aveva ricevuto le precedenti aveva ricevuto solo un canovaccio perché c'erano delle cose che ti facevano dire scusami ma perché fanno questa cosa se nelle puntate precedenti hanno fatto quest'altra cosa qui è lo stesso sono solo due puntate quindi non sto giudicando la serie ma sto giudicando le prime due puntate ma ho avuto la stessa identica impressione cioè l'impressione che ho avuto è che l'abbiano scritta senza qualcuno che dall'alto coordinasse i vari sceneggiatori e quant'altro i vari registi perché francamente ci sono proprio delle cose che guardandole mi hanno fatto pensare boh non mi torna ci sono delle cose proprio che non riesco a comprendere e sono solo due episodi poi ci sono anche delle cose positive perché non posso neanche dire che nel complesso non mi abbia intrattenuto qualche cosa che si salva cioè ad esempio io ho una settimana che continuo a canticchiare la canzone sulla strada delle streghe quella scena che è una scena molto musical in cui peraltro è la stessa Catherine Anne a cantare è bellissima la Svet non ha ancora visto la serie non ha ancora visto le prime due puntate le ho fatto però vedere quel finale e lei mi fa boh ma ti ho sentito dire che per quello che hai visto non ti è piaciuto ma come è possibile cioè questa scena che sto vedendo è bellissima come è possibile che il resto faccia cacare me lo sono domandato anch'io me lo sono domandato anch'io ho detto ma è possibile che tu mi tiri fuori una serie di cacatelle anche poco interessanti per quanto possano risultare a tratti divertenti e poi mi fai una scena che è pazzesca ma non solo per la canzone proprio a livello registico il modo in cui cantano quello che succede mentre cantano è bellina come cosa a me è piaciuta infatti guardando ho detto e la madonna ho detto ma cazzo ero comunque poco convinto fino a un secondo fa e poi mi mettono sta scena che è fantastica ho detto ma porca troia perché poi ci sono anche altre cose che davvero che diciamo che vogliono fare le gag ma le gag non dovrebbero intaccare la credibilità della narrazione ok una gag non deve avere un impatto narrativo che scombini quello che stai vedendo una gag è una gag se tu per fare una battuta è una gag mi prendi una cosa me la inserisci completamente a caso e mi fai pensare ma non ha senso quello che sta guardando allora forse potevi studiarti un'altra gag la butto lì a me questa cosa che dividirò nella parte spoiler che riguarda il personaggio della tizia che fa giardinaggio a me ha fatto incazzare ma è possibile che scrivendo non si sono resi conto che è una cosa stupida cioè per ora non ho capito dove vanno a parare stasera e stanotte perché le puntate escono alle 3 di notte della notte tra mercoledì e giovedì così domani mattina faccio il video con calma dovrebbero farci vedere bene com'è questa strada delle streghe magari poi inserendo un'atmosfera completamente diversa perché queste due puntate non sono introduttive nei confronti del piatto forte magari poi dico cazzo mi sta piacendo per ora non mi ritengo piuttosto convinto per ora a me sembra la classica serie marvel scritta col buco del culo senza una reale voglia di stupire lo spettatore il personaggio di Agatha è interessante ma perché è brava a Catherine Hunt perché se stiamo a guardare quello che le fanno dire non lo so lei è talmente brava e magnetica che riesce a renderti Agatha affascinante ma se non fosse lei cioè qui non è il personaggio che è interessante è chi lo interpreta che sa rendere di riflesso il personaggio interessante ma se dovessimo stare a guardare le linee di dialogo ma poi finché la serie era finché la prima puntata era nel contesto della serie crime anche i dialoghi erano fantastici ce ne sono un paio anche nel secondo episodio che mi hanno divertito ci sono dei dialoghi scritti bene però ce ne sono tanti altri che boh però ripeto è solo una prima impressione alla fine e non butto via totalmente quello che ho visto perché comunque ammetto che la terza puntata mi interessa guardarla anche solo per la curiosità di capire dove voglio andare a parlare però la sensazione di non star guardando una serie Marvel l'ho avuta per tutto il tempo è un prodotto Marvel io dalla Marvel voglio qualcosa di specifico perché ad esempio anche Werewolf by Night era ambientato nell'ambito esoterico della Marvel però a un certo punto quando il personaggio di Guy Garcia Bernal si trasformava nell'uomo lupo ti dava quell'idea quasi di supereroismo che qui non riesco a percepire sembra una cosa completamente scollata dall'universo Marvel e io seguo l'universo Marvel per un motivo ben specifico senza contare che hanno proprio effettuato un cambiamento di rotta allora Echo era sotto l'etichetta Marvel Spotlight che erano quelle serie che non era necessario seguire avendo guardato i film ma pare che non lo useranno più gli special presentation che erano i corto i mediometraggi li avevano cancellati ma poi pare che ne faranno altri addirittura questa serie non è sotto l'etichetta Marvel Studios tutte le altre serie arrivavano con la classica fanfara orchestrale il logo di Marvel Studios che qui è solo accennato perché Marvel Television queste serie adesso non sono più sotto l'etichetta Marvel Studios ma Marvel Television come a separare le due cose solo che poi guardi Agatha o Le Long e ti rendi conto che è collegata tanto ai film quanto a un'altra serie allora quindi me la stai dividendo o non me la stai dividendo la situazione non sto capendo cioè io con questi primi due episodi ho percepito tutta quanta la confusione che c'è stata negli ultimi anni per quanto riguarda Marvel Studios e mi dispiace perché io sono convinto che potendo o l'avrebbero cancellato o l'avrebbero rifatta da zero ma ovviamente non potevano è un residuo quindi cerco di non incazzarmi troppo cerco di non essere troppo severo proprio perché capisco che è un fondo di magazzino che ormai dovevano per forza buttare fuori ma spero che con le prossime aggiustino il tiro è un po' come Cap 4 o Thunderbolts i film che ormai erano lì quelli secondo me non ci faranno capire come stanno aggiustando il tiro lo capiremo con film come Fantastic Four se stanno aggiustando il tiro perché questi sono residui Cap Captain America Brand New World oppure Thunderbolts di una gestione sbagliata solo che ci hanno speso i soldi non è che possono dire non li facciamo è un po' come il DCU che in un anno hanno dovuto buttare fuori Shazam The Flash Blue Beetle e Acqua ma nel regno perduto perché ormai li avevano fatti e anche se si stava cambiando universo questi film dovevano uscire per cui la mia severità diminuisce se penso a questo anche se da spettatore potrei dire beh ma non sono cazzi miei se tu mi presenti i prodotti io non posso stare a dire eh però è un fondo di magazzino eh però penso che è una serie che mi sta facendo cacare e non mi sta piacendo però qualcosina può anche starci poi c'è Patty Lupone che è un'attrice che amo eh la congrega il Coven sgangheratissimo può anche starci vediamo se e come riusciranno in qualche modo a esplorare dei personaggi che si spera siano interessanti ma che per ora non me ne sta fregando granché di nessuno di loro tranne Agatha che ripeto eh è un personaggio che mi sta interessando per via di chi le interpreta e non per via del personaggio in sé quindi questo è quello che pensavo su questi primi due episodi in maniera generica adesso eh entro un po' più nel dettaglio facendo spoiler se non avete visto le prime due puntate di Agatha o Le Long non continuate con la visione di questo video se non volete spoiler perché eh dirò molte cose che sono successe in questi due episodi allora siete avvisati l'inizio alla True Detective è stato molto figo lei poi Catherine Anne è perfetta nei panni della Detective che eh è un po' una sorta di outsider perché comunque è stata sospesa dal servizio per parecchio tempo perché aveva messo le mani addosso un testimone infatti a un certo punto cerca di mettere le mani addosso anche a Wickham peraltro molto bella l'idea che quando lui parla di sé gli compare un sigilo sulla bocca oppure Agatha inizia a non sentire più cosa dice ha una confusione in testa non sente il suono che scena in labbra perché qualcuno probabilmente secondo me gli ha fatto una sorta di maleficio e lei è legata a lui in qualche modo perché essendo Wickham in teoria è uno dei figli di Wanda ma cosa ci fa lì in che modo quindi c'è qualcosa di strano tra l'altro il glifo che gli compare sembra una W di Wanda quindi può essere che sia qualcosa che ha fatto Wanda che noi non sappiamo magari l'ha fatto con il Darkhold attenzione questa è una cosa interessante questo è un elemento che non mi è dispiaciuto in effetti ma l'ho apprezzato la parte iniziale è bella ma io mi chiedo ma che senso ha mettermi solo quella parte in stile WandaVision per poi passare a parlare delle streghe con un'atmosfera completamente differente cioè i primi 20 minuti sono nettamente più belli di quello che si vedrà nel resto dell'episodio e anche nel secondo a quel punto io ho pensato ma non è che magari posso sperare che sia tutta così me la fai tutta come WandaVision volevano solo omaggiare WandaVision e ricordare una parte di quella serie per poi passare a qualcosa di cui a me non è che interessi granché ma sono io probabilmente quindi lei riceve la visita di questa detective dell'FBI che è appunto Aubrey Plaza che capiamo che lei sa qualcosa tra l'altro è bellissimo che Agnes questo è il nome della è il nome del suo personaggio quando è nel mondo delle serie tv magiche mettiamola così Agnes ha una stanza in casa che sembra quella di un bambino che però non c'è probabilmente l'è morto un figlio approfondimento che non ci sarà perché era il personaggio di quella finta serie capito l'hanno caratterizzata meglio nella finta serie che nella serie vera il personaggio questa cosa è assurda se parliamo di dialoghi e quant'altro e poi arriva il presunto Wiccan il quale a un certo punto riesce a risvegliarle scopriamo che lei è a Westview da tre anni però il punto è lei è sempre stata una vicina brava dicono dicono gli altri vicini ma allora scusatemi alla fine di WandaVision lei rimaneva intrappolata nell'incantesimo in teoria e allora com'è possibile che lei per tre anni sia stata una brava vicina e poi sia ricaduta di nuovo nell'idea di essere in un mondo di serie ma che senso ha è una cosa che vale solo per lei non vale per gli altri abitanti non ha molto senso secondo me senza contare che il personaggio di Aubrey Plaza la vuole ammazzare lei ha il potere Agatha i suoi li ha persi e capiamo che c'è del tenero perché ad esempio c'è una tensione sessuale non indifferente nella prima parte in stile serie finto true crime e anche dopo sembra che ci sia del tenero tra le due ma è successo qualcosa e lei dice adesso ti ammazzo e Agatha ma non preferiresti ammazzarmi quando ho recuperato i poteri così sono in difesa non preferiresti uccidermi quando sono effettivamente una minaccia e io avrei risposto no fine chi cazzo se ne frega se ti odio e ho intenzione di ucciderti ti uccido stiamo parlando di finzione ovviamente no va bene d'accordo non ti ucciderò ma lo dirò alle sorelle di Salem che entro il tramonto saranno qui per ucciderti perché ammazzala adesso eh ma devono ancora spiegare il rapporto tra le due non ha senso questa cosa ragazzi ma quando dico che non ha senso intendo che quando l'ho vista sta cosa ho pensato e quindi cioè perché così lei ha tempo dal mattino al tardo pomeriggio per formare un coven si porta dietro il ragazzetto che vuole andare nella strada delle streghe per avere il potere per diventare un mago e lei dice ma sai che quasi quasi ci vado anch'io così mi riprendo il mio potere viola ci sono già stato una volta ma è un casino è pericolosa ti ammazzano e iniziano a cercare un coven una congrega per poter aprire il portale cosa che in realtà Agatha non ha effettivamente intenzione di fare il suo piano è dire dai apriamo la strada delle streghe quando in realtà mi interessa che loro mi attacchino così quando mi attaccano io gli succhio i poteri perché lei può farlo può assorbire i poteri WandaVision non spiegavano propriamente così quindi hanno cambiato un po' anche le carte in tavola ma vabbè a dimostrazione che non riguardano neanche i prodotti quando li fanno quando fanno un seguito uno spin off e quindi vanno a cercare queste streghe e lei dice al ragazzetto tra l'altro io ti dico che ci sono streghe ogni c'è una congrega ogni 3 miglia ma come si scopre che la zona di Westview è piena di streghe ma come ma in che senso dove cazzo erano quando Wanda ha fatto quel casino lì adesso si scopre che ci sono streghe ogni 3 miglia pieno di streghe dappertutto quindi vanno da quella l'indovina che è Patty Lupon e la convincono a a votare con lei vanno da una che si scopre che è una truffatrice che a quel punto è a rischio della galera e io devo empatizzare con un personaggio truffatore perché questa è una stronza cioè questa si merita ad andare in galera per quello che ha fatto ha causato danni anche fisici alle persone non fa ridere non è una cosa comica è stupido perché cazzo me ne frega di questa vai in galera vanno da quest'altra che è la figlia della tizia che era parte di una band rock che aveva reso famosa la versione della ballata della strada delle streghe che è quella necessaria per il rito che apre la strada delle streghe stessa 40 milioni di coppie vendute quel singolo lo dice a un certo punto il presunto wiccan ok e questa cosa è importante perché poi per aprire la strada delle streghe bisogna avere 5 streghe quindi un cover una congrega che iniziano a cantare la ballata tutte insieme così si apre la porta fine ma no cantare una canzone sconosciuta che devi magari trovare lo spartito che cazzo ne so già questo avrebbe complicato le cose bisogna cantare la ballata ma attenzione una ballata perduta non la conosce nessuno e si può trovare che cazzo ne so in un monastero sotterraneo nello Yemen ti rende un po' difficile provare ad andare nella strada delle streghe no basta prendere 5 streghe a quanto pare non serve neanche che siano streghe devere perché serviva la strega verde ok quella in connessione con la natura eccetera che è il personaggio di Obrei Plaza che ha il cuore nero e allora Agatha dice no va bene ok no lei non la voglio ma ho capito cosa ci serve valla dalla vicina il picciono che vedevamo anche in WandaVision perché si vedono anche alcuni dei cittadini di WandaVision ovviamente questa qua fa giardinaggio c'è il pollice verde quindi è una strega mancata è una strega verde mancata portiamola e la facciamo cantare con noi già il rito è una cazzata idiota perché basta avere altre cinque streghe e ce ne sono c'è una congrega ogni tre miglia quindi non ci vuole un cazzo trovare altre streghe a quanto pare se mi dici purtroppo le streghe sono poche e dobbiamo andare in Europa a trovarne qualcuna mi rendi più complicato il rito no streghe ogni tre miglia se ne manca una non importa prendiamo una che tanto è una strega mancata chi cazzo è la vicina che fa il giardinaggio dai vieni gag incredibile che però crea un problemino di trama visto che le streghe che servono sono cinque e qua sono quattro più una che ma sì c'è il pollice verde boh ma chi cazzo l'ha scritta sta roba e poi in realtà questa cosa è leggermente smorzata dal fatto che tanto ad Agatha in realtà non interessa aprire la strada le interessa rubare i loro poteri perché sa che di lì a poco arriveranno le sorelle di Salem e la scena di loro che cantano in alternanza col montaggio agli animali che si trasformano nelle streghe con Wiccan spaventatissimo che si butta giù e dice dobbiamo andare dobbiamo andare e compare provvidenzialmente la porta è anche una scena figa quindi in questa prossima puntata che uscirà tra poche ore dovremmo vedere in parte questa strada delle streghe capite che io rimango abbastanza interdetto vedendo questa cosa perché proprio non ci vedo il minimo impegno cioè è una serie peraltro che palesemente ha avuto un budget molto più basso rispetto alle altre cioè credo che il progetto delle serie dell'MCU sia stato molto ridimensionato non hanno più i budget di prima questa sembra veramente la serie streghe ma fatta peggio ma è proprio televisiva a me sta bene che sia televisiva perché se tu fai una serie televisiva io preferisco che non sia un film allungato ma che sia una serie questa cosa mi fa anche piacere però capite che che so magari a uno faccio un esempio con gli anelli del potere a uno non piace perché dice i dialoghi sono stupidi non mi piace quello che succede ok quantomeno si vede il budget speso bellissime le ambientazioni certe scene sono realizzate molto bene perché giustamente avevano tanti soldi magari non ti piace come è gestita non ti piacciono le interpretazioni pensi che la narrazione sia una cacata ma almeno c'è qualcosa di bello da vedere almeno ti sorprendi poi magari non ti basta magari non te ne frega ma quantomeno a livello visivo c'è qualcosa qui manco quello oltre al fatto che secondo me è scritta male ma proprio male i personaggi per me non hanno spessore ho capito che sono due puntate però in due puntate puoi quantomeno rendere interessanti i personaggi per me l'unica cosa buona sono Agatha per via di lei di Catherine Han è interessante il personaggio della Lupin ma per lo stesso motivo perché è patti Lupin anche il personaggio di Aubrey Plaza per me è un personaggio che ancora non hanno esplorato ma non ha avuto alcun impatto su di me l'unica cosa che mi ha fatto piacere è che fosse interpretata a Aubrey Plaza perché è una brava attrice fine punto non c'è nient'altro cioè capito i personaggi in due puntate non mi hanno detto un cazzo Agatha che accetta di buon grado che questo dica andiamo ma si dai andiamoci lei poi un po' gli da retta perché capisce che c'è qualcosa di strano in lui però al di là di quello boh cioè questi due episodi che cosa hanno dato uno può dire mi hanno divertito vabbè ok ci sta ognuno si diverte con quello che vuole ci mancherebbe altro uno può apprezzare quello che gli pare però il discorso è va bene lo capisco però secondo me sono veramente in niente ci sta che uno si diverta però niente per quanto mi riguarda io vedo sta roba e dico boh certo vediamo come sono i prossimi episodi un filo di curiosità ce l'ho ma più che altro per capire dove vogliono andare a parlare ma la serie in sé non mi sembra partita sotto i migliori auspici cioè io ho rivisto tutti i problemi che avevano le serie della MCU finora non è cambiato niente anzi forse qui sono ancora più accentuati proprio in virtù del fatto che è un prodotto con meno budget con personaggi nettamente meno interessanti perché sono questo addirittura è uno spin off su un personaggio che si rivelava come cattiva alla fine di WandaVision c'era per tutta la serie ma non era mai la cattiva sembrava un personaggio comprimario minore capite che quando vedo sta roba qua io penso capito ma che senso ha una serie del genere ha maggior ragione che poi me la fai così io spero che migliori con le prossime puntate lo spero vivamente perché per ora quello che ho visto per me è il nulla assoluto anzi ciò che mi è piaciuto di più sono i primi 20-25 minuti del primo episodio perché cazzo era realizzato bene ci hanno messo più impegno nello scrivere una trama sensata in quella prima parte della finta serie che in tutto il resto che abbiamo visto nel momento in cui escono da quella dimensione di finta serie crime diventa una cacata piena di gag puerilissime con questo personaggio di Wickham che si può anche essere simpatico però lei ha cioè tutte accettano troppo di buon grado che ci sia sto tizio ma chi cazzo sei ma anche lì ma approfondisci il perché vuole andare nella strada delle streghe ha maggior ragione che vedi che c'è qualcosa che non va in lui ok cerca di capire che cazzo vuole da te è un po' strano che arrivi questo sconosciuto questo ragazzetto che quando ti parla di sé i tuoi sensi si confondono e non riesce a capire chi sia e lo avverte perché lo avverte quando che ti chiede di andare nella strada delle streghe per diventare un grande stregone un grande mago oh con calma c'è qualcosa che non va no va bene d'accordo boh io francamente rimango perplesso quantomeno non capisco dove dovrebbe stare il fascino spero di sbagliarmi e di godermi eventualmente le prossime puntate perché magari le guardo e penso ok questa non mi è dispiaciuta spero nella terza che magari perché poi queste serie non ha mai tante puntate dalle 6 alle 8 quindi boh vediamo poi io francamente non credo neanche che sia una di quelle serie che avrà una seconda stagione a maggior ragione la vedo abbastanza inutile capiremo però io francamente rimango rimango veramente perplesso rimango invece molto contento sulla canzone della Witch's Road perché quella è veramente bella cioè poi orecchiave è un martello proprio a livello di metrico è bella ma poi è bella anche la scena lì mi ha ricordato tanto Hocus Pocus e va bene ma che cazzo c'entra con la Marvel con tutto che le streghe ci sono nella Marvel editoriale ma non sta roba qui il Cristo quindi non lo so rimango un po' perplesso con riserva perché non butto via tutto come vi ho detto staremo a vedere quello che accadrà nelle prossime puntate per ora non sono propriamente convinto la mia teoria è che Wickhan ha un ruolo molto più il presunto Wickhan un ruolo molto più importante di quello che sembra e si dovrà essere probabilmente uno dei figli di Wanda che è stato generato grazie alla magia forse proprio nel momento in cui lei è morta magari con le ultime stille di consapevolezza ha creato questa immagine di Wickhan che si è generata diventando reale con dei ricordi fasulli che lui crede essere veri ed è per questo che magari lo ha indirizzato involontariamente senza che lui sapesse nulla da Agatha ha voluto forse una connessione con Agatha perché lo proteggesse la butto lì a me è piaciuto anche il fatto che il cadavere di Wanda nella finta serie crime sia schiacciato perché lei è morta schiacciata e il fatto che c'è della terra che si trova solo in una regione che è quella dove poi lei è stata distrutta dal potere del Dark Cold che se uno non ha visto il film non lo sa però non è necessario saperlo al 100% certo capisci meglio che cosa sta succedendo e capisci come mai è in quelle condizioni il cadavere non lo so alcune cose carine ci sono ma sono troppo poche per ora per farmi dire che la serie mi stia piacendo mi diverticchia quello si ma poco poco però qualcosa che si salva c'è per cui fatevi un conto qui sotto cosa ne pensate voi sono molto molto curioso poi nei prossimi giorni parliamo anche della nuova puntata per vedere se la situazione è migliorata oppure no io vi abbraccio vi ringrazio grazie e noi ci vediamo al prossimo muovilog ciao a tutti